Sì, signori, si parte a base di birra per Dusseldorf e poi Mosca, insieme, brindiamo! Ragazzi salutate! Si parte bene Mosca! 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 Tutti insieme al mio tre Mosca! Ma non è vero che è rigenziato! Attenzione! Come vedete ci sono gli amici Giuseppe, Marta e Rosanna! Si chiama Daniover, una città stupenda! Saluta la Sicilia, compare! Saluta Sicilia! Si, Siciliani! Si, Siciliani! Si, Siciliani! Ragazzi, volevamo comunicare ai nostri figli, agli amici che vedranno questo video, ai parenti, tutti quelli che stanno che ora siamo in questo momento a quelli del fatto di Seno, che in questo momento siamo a Dusseldorf ed è una delle tante tappe che faremo ma siamo carichi! Carichi appuntino? Si! Signori siamo sbarcati a Mosca e ora a breve ci sarà il racconto di questo meraviglioso viaggio che inizia proprio da qui! Sì! Gelato al cioccolato, sempre un po' gelato! Gelato al cioccolato! Signori qua da Russia! Pupo è uno dei più famosi! Chi è più famoso in italiano e in russio? Pupo! Puposchki! Fantastico! Il mondo è fatto a scale e noi che siamo partiti per la Russia stiamo facendo una di quelle scale che non finisce mai per andare alla Piazza Rossa! Basta! Basta! Direttamente dalla Russia con i miei amici! Abbiamo una bella canzone di russone! Basta! Faisca! Enzo! Enzo! Amo! Eh! Signori e signori siamo arrivati qui! Ero! Ero! Ero caduto! Alla Piazza Rossa! Sempre con i soliti amici! Rosannuk e Marta e Giuseppe che si sono persi! Eh! La Russia! Eh! Seria! Eh! Quindi ciao! Ero! 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 Siamo all'ingresso del Cremilinisco. Salve, saluta Italia, al microfono, saluta Italia. Saluta Italia. E tutti ti saluto, saluto amici autoscuola castellani. A Russia carosi i sordi si vietano, uno, due, tre. Un zebada spesi. Siamo Dentroski il camminischio, come si dice in Italia. E ora vi faccio vedere la particolarità di questa piazza fantastica. Perché nella vita è importante leggere. Leggendo le cose si capisce. La storia si capisce. Ci facciamo una bella foto. Mettiti in posta. Tu stai registrando per un'uomo. Ah, sto registrando. Ma che cosa strana che non me ne ero accorto. Giuseppe Giuseppe Giuseppe. Giuseppe Giuseppe. Giuseppe Giuseppe. Dopo due ore abbiamo capito che il Cremilino non era questo. Ma il Cremilino, signori e signori, è quello. Questa che vediamo qui sotto è la Basilica di... La Catedrale di San Basilio. La Basilica e Catedrale di San Basilio. Nooo! No! A voi San Basilio! E questo è Cristiano... Viettel dell'Arlusia con mio compare che è un grande suonatore russo. Fai un colpo? E' stanco ormai la gente C'è avvi anni che ce lo racconti E caro Presidente O I BLE O I BLE O I BLE O I BLE Salute Italiano Ciao amico Ciao amico Ciao amico To me no si, ora scurru颗 chi si stupi? prendono, quali ? e ne pensi nato più страшava ого verona 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 oi, oi, oi oi, oi, oi che è già? oh Dio, non ho pensato e ora in un momento molto importantesco siamo qui a farvi vedere la meravigliosa cattedrale di San Pasidio Sì, è un po' di scambiamento, ma non andiamo a farlo Mmm, buon sound Signore e signori, volevamo spiegarvi qual era la forma di questa bellissima cattedrale Al mio tre, uno, due, tre Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato Gelato al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato Putin, gelatoschi, cioccolatoschi Questa truffa andrà bene, ci danno i quattro biglietti per cento C'è una lei di Mercento? Siamo stati bravi, quattro studenti, scondo di 300 res a testa, grandi All'interno della basilica, come dice bella amica nostra, sono tutte decorazioni che creano un effetto pazzesco E lei è d'accordo con l'Omarco E lei è d'accordo con l'Omarco Assolutamente E l'Iconostaz è anche un'inconestà che... L'onestà è onestà L'onestà è onestà E l'onestà è un'interessante E' un'interessante Quando uno si sa, pesa Informatissima Interessante L'Iconostaz L'integrazione ci vuole Siamo arrivati qua In questa cappella C'è un po' di respiro Dopo 500 scalini C'è un po' di respiro Dopo 500 scalini E' un brand Non ci sei Ti pare una buona C'è yan Vizita veramente Глbt la mozzardia picciotti è stato bellissimo oggi, oggi mi ha ricreato, mi ha ricreato, e poi ce l'ho tutti a comando, non si muove, non si muove, se si sa cosa c'è devi restare fermo, l'italiano russi, bellissimo non si muove, i due si rispondono, non puoi restare fermo, chi ha malavita come va, malavita fa veramente, che miseria, perché se mi sparo un cuore poi ora una specie di centro commerciale, in giro qua la basilica, la via Zerrosso, l'organizzazione russii, orgaidiaisca, luaisca c'è 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 Poi i centri commerciali russi, non si scherza, anche i centri commerciali fatti in grande in Russia Tutto è a maceno, spettacolisti a Mosca Malassie, Malassie, siamo qui, Malassie, Malassie La particolarità dei russi è la matrioska, come vedete All'interno ci sono altre matrioska e ancora matrioska e così via La matrioska russa fa veramente paura, è come i pesci, si molto buono Signore e signori, in un posto così meraviglioso l'ispirazione ci chiama ed è questa la canzone del momento Scende la pioggia ma che fa? Passa il mondo davanti a me Per amore sto morendo Sotto l'ombrello mi salverò perché poi non piove più Dovrei mettere che qua c'è un mare di gente ma un silenzio assortante Quindi solo noi Silenzio, Mosca Mosca, Mosca Mosca, Mosca, chi parla? Abbo Sotto l'ombrello